ciao a tutti e ben ritornati sul canale dell'uncinetto di Mary oggi vi presento un nuovo punto all'uncinetto che vi permetterà di creare sciarpe e capi originali come vedete un punto un po particolare è un multiplo di 8 e ha una lavorazione in rilievo in modo da dare un tocco particolare le vostre creazioni rendendo le perfette sia per la stagione estiva che per quella invernale direi proprio di lasciarvi ispirare dalla sua versatilità e dalla sua bellezza e scoprire come questo punto può trasformare i vostri progetti in qualcosa di veramente veramente speciale immergiamoci dunque nel tutorial una volta che abbiamo incominciato il nostro lavoro mettendo sulle catenelle che ci occorrono andiamo avanti nel realizzare altre due catenelle che servono per girare il nostro lavoro quindi una e due da qui saltiamo la prima entriamo nella prossima e lavoriamo una maglia bassa fatto questo lavoriamo 3 catenelle saltiamo il punto appena lavorato quindi l'abbiamo già lavorato quindi contiamo il prossimo 1 2 3 nel quarto punto lavoriamo una maglia bassa da qui facciamo nuovamente 3 catenelle e facciamo la stessa cosa quindi questo punto è già stato lavorato non lo contiamo contiamo il prossimo quindi 1 2 3 entriamo nel quarto punto lavoriamo una maglia bassa 1 2 3 nuovamente contiamo 1 2 3 quarto punto maglia bassa andiamo avanti in questo modo lavorando 3 catenelle contando 1 2 3 4 e lavorando una maglia bassa fino a completare tutto il giro una volta che abbiamo completato il giro andiamo avanti nel realizzare una catenella giriamo il nostro lavoro e da qui lavoriamo nel nell'ultimo punto che abbiamo lavorato precedentemente quindi nella maglia bassa lavoriamo un'altra maglia bassa facciamo 1 2 catenelle consideriamo che questo punto equivale per una maglia alta filo sull'uncinetto entriamo nello spazio nello spazio lavoriamo 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e per ultimo 5 considerando che il primo punto ovviamente è lavorato comunque lo dobbiamo contare per maglia alta quindi sono 6 1 2 3 4 5 6 ma nello spazio vanno lavorati comunque 5 punti quindi solo 5 maglie alte filo sull'uncinetto entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo nuovamente altre cinque maglie alte quindi questa è la prima nello stesso spazio la seconda nello stesso spazio la terza nello stesso spazio la quarta nello stesso spazio la quinta e da qui andiamo avanti nel prossimo spazio quindi a lavorare altre cinque maglie alte nello stesso spazio questa è la seconda andiamo avanti sempre nello spazio la terza nello stesso spazio quindi andiamo avanti nel realizzare la quarta e andiamo avanti nel realizzare la quinta andiamo e completiamo tutto il giro in questo modo una volta che abbiamo fatto le 5 maglie alte nello spazio facciamo l'ultimo punto nella maglia bassa lavorata precedentemente e quindi lavoriamo l'ultima maglia alta da qui facciamo una catenella giriamo il nostro lavoro incominciamo il nuovo giro nel primo punto lavoriamo una maglia bassa seguita da due catenelle a questo punto filo sull'uncinetto prendiamo la maglia in questo modo quindi la abbracciamo in rilevo davanti facciamo passare il filo non chiudiamo la maglia quindi la lasciamo sull'uncinetto questa è una la seconda facciamo la stessa cosa e sono due la terza e sono tre la quarta e sono quattro la quinta e sono cinque a questo punto non chiudiamo perché dobbiamo andare a lavorare le altre cinque in questo modo quindi filo sull'uncinetto andiamo avanti prendiamo la prossima che è la numero sei la lavoriamo solo per metà la prossima lavoriamo per metà la prossima lavoriamo per metà la prossima lavoriamo per metà e per ultima facciamo la stessa cosa quindi abbiamo su dieci maglie fatto questo una volta che abbiamo fatto questo filo sull'uncinetto chiudiamo tutte le maglie insieme da qui facciamo una catenella che serve per chiudere il nostro lavoro appena completato più altre due catenelle a questo punto dobbiamo andare a lavorare in questo punto questo punto qui che c'è lo spazio nelle altre cinque quindi prendiamo il punto in questo modo al centro in questo modo e lavoriamo una maglia bassa punto e lavoriamo una maglia bassa da qui facciamo uno due tre catenelle filo sull'uncinetto e andiamo avanti quindi dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui prendiamo la maglia la lavoriamo per metà la lasciamo sull'uncinetto la prossima lavoriamo per metà e la lasciamo sull'uncinetto e andiamo avanti in questo modo quindi questa è la terza la quarta la quinta da qui andiamo avanti nel prendere la sesta perché fa parte delle altre cinque maglie alte lavorate precedentemente nello spazio oddio è andata un po' male con la qui ce l'abbiamo fatta prendiamo la prossima la lavoriamo sempre per metà prossima lavoriamo per metà prossima lavoriamo per metà e l'ultima in modo tale da lavorare le dieci maglie insieme da qui filo sull'uncinetto chiudiamo tutte le maglie insieme fermiamo con una catenella più altre due catenelle nuovamente andiamo nello spazio tra i cinque motivi e i motivi appena lavorati e andiamo a lavorare una maglia bassa facciamo tre catenelle e continuiamo in questo modo quindi dobbiamo andare nuovamente a lavorare le dieci maglie insieme come vedete si crea subito il nostro motivo il motivo che stiamo effettuando il rilevo andiamo avanti in questo modo quindi dieci maglie alte insieme chiudiamole facciamo le due catenelle per poi andare a lavorare nel centro delle dieci nel centro tra scusatemi nel centro tra le ultime maglie appena lavorate e il motivo da cinque completiamo tutto il giro in questo modo completate il giro come vedete io mi sono fermata alla chiusura con la catenella sopra le dieci maglie alte più ho fatto le altre due catenelle a questo punto vado a completare il giro nell'ultimo punto quindi qui e lavoro una maglia bassa da qui faccio una catenella per girare il mio lavoro e come vedete incomincia a risultare tutto in rilevo il motivo incomincia a prendere la sua forma nello stesso punto lavoro una maglia bassa seguita da altre due catenelle che sarebbero la mia prima maglia alta in questa parte qui ora andremo a lavorare negli spazi che si sono appena creati quindi in questi spazi che vedete in questo punto che si sono appena creati cosa dobbiamo fare dobbiamo lavorare lo stesso lo stesso giro che abbiamo fatto qui quindi andremo a lavorare negli spazi le cinque maglie alte quindi una due tre tre quattro e cinque da qui filo sull'uncinetto entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo le altre cinque maglie alte quindi una due tre quattro e cinque entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo altre cinque maglie alte quindi per ogni spazio che si è creato lavoriamo le cinque maglie alte fino a completare tutto il giro non so se si vede bene nella telecamera vado ad allargare leggermente questo è lo spazio che si è creato il prossimo è questo poi c'è questo 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 e così via quindi lavoriamo in questo modo e completiamo tutto il giro completiamo il giro ho fatto le cinque maglie alte nell'ultimo spazio completiamo il giro nell'ultimo punto lavorando una maglia alta da qui facciamo una catenella giriamo il nostro lavoro nel primo punto lavoriamo una maglia bassa seguita da due catenelle questo punto filo sull'uncinetto inizialmente andiamo a lavorare solo le cinque maglie insieme come abbiamo fatto precedentemente in questo punto qui quindi lavoreremo in rilievo davanti una nuovamente due tre quattro e per ultima cinque da qui chiudiamo tutte le maglie insieme una catenella per chiudere il lavoro più altre due entriamo nel centro tra i cinque motivi e quelli appena lavorati vedete c'è proprio uno spazio noi andiamo ad inserire l'uncinetto in questo punto e lavoriamo una maglia bassa andiamo avanti con 1 2 3 catenelle filo sull'uncinetto e nuovamente lavoriamo questa volta dobbiamo fare il motivo da 10 quindi prendiamo la maglia e rilievo davanti la lavoriamo sempre per metà filo sull'uncinetto entriamo nella prossima lavoriamo entriamo nella prossima lavoriamo la terza lavoriamo anche la quarta per poi passare alla quinta da qui andiamo avanti non ci fermiamo lavoriamo anche l'altra la sesta la prossima lavoriamo anche l'ottava lavoriamo anche la nona e lavoriamo l'ultima in questo modo una volta che abbiamo lavorato tutte le maglie le abbiamo sopra chiudiamo tutte insieme una catenella più altre due e da qui andiamo ad inserire l'uncinetto in questo punto per poter lavorare la maglia bassa 3 catenelle e andiamo avanti nuovamente nel lavorare gli altri motivi da 10 quindi una andiamo nella prossima sono due considerate che dobbiamo completare tutto il giro in questo modo ci fermiamo ovviamente a fine giro al motivo delle 5 perché lavoreremo a fine giro gli ultimi 5 singolarmente lavoreremo gli ultimi 5 singolarmente come abbiamo fatto inizialmente quindi continuiamo ad andare avanti in questo modo lavorando le 10 insieme e magari ci troviamo in questo punto qui completiamo il giro insieme facciamo 1, 2, 3 catenelle filo sull'uncinetto abbiamo gli ultimi 5 motivi e quindi li andiamo a lavorare come abbiamo fatto finora quindi la prima la lavoriamo senza chiuderla facciamo la stessa cosa anche per la seconda facciamo la stessa cosa anche per la terza ugualmente per la quarta e l'ultima la quinta da qui chiudiamo tutte le maglie insieme più una catenella per chiudere il lavoro sotto più altre 2 catenelle entriamo nell'ultimo punto quello lavorato con le catenelle e lavoriamo una maglia bassa per completare il giro da qui facciamo una catenella giriamo il nostro lavoro e andiamo avanti nel primo punto lavoriamo una maglia bassa seguita da 2 catenelle a questo punto dobbiamo andare a lavorare negli spazi siccome non dobbiamo andare a fare aumenti da questa parte il primo spazio non lo andremo a lavorare quindi questo spazio qui lo saltiamo entriamo direttamente nel prossimo e lavoriamo le nostre 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 andiamo avanti filo sull'uncinetto entriamo nel prossimo spazio e andiamo a lavorare le altre 5 maglie alte come abbiamo fatto precedentemente negli spazi quindi dobbiamo completare tutto il giro in questo modo qui sono 3 portandoci a fine giro realizzando 5 maglie alte negli spazi 5 maglie, 5 maglie, 5 maglie ci ritroveremo a fine giro arrivati a fine giro filo sull'uncinetto l'ultimo spazio facciamo come abbiamo fatto all'inizio del giro che l'abbiamo saltato quindi salteremo anche questo lavoreremo direttamente nelle catenelle per lavorare l'ultima maglia alta da qui una catenella giriamo il nostro lavoro e a questo punto ricominciamo con una maglia bassa più 2 catenelle filo sull'uncinetto e qui come noterete adesso abbiamo il motivo da 10 quindi abbiamo il gruppo da 10 prima non erano erano divise in modo diverso il giro precedente adesso sono da 10 quindi i blocchi sono da 5, 5, 10 a questo punto dobbiamo andare a lavorare come abbiamo lavorato il primo giro quindi questi giri verranno alternati prima lavoreremo a blocchi da 10, 10, 10 e 10 e poi lavoreremo da blocco da 5 per poi passare a 10, 10, 10 e completare con il 5 andiamo avanti lavorando le 10 maglie insieme quindi filo sull'uncinetto prendiamo la maglia e la lavoriamo lasciandola sull'uncinetto prendiamo l'altra la lasciamo sull'uncinetto e così via continuando fino ad arrivare alle 10 maglie questo è il primo motivo da 5 prendiamo l'altro quindi questa è la maglia numero 6 la maglia numero 7 la maglia numero 8 la rifacciamo non vuol stare che così facciamo attenzione a prenderle bene le maglie altrimenti non passerà poi dopo l'uncinetto ecco la prossima maglia la lavoriamo sempre per metà lasciandola sull'uncinetto la prossima maglia che sarebbe la decima la lavoriamo in questo modo chiudiamo tutte le maglie insieme una catenella più altre due e andiamo nello spazio nel lavorare la maglia bassa in questo spazio seguita da 3 catenelle per poi ripartire nuovamente con il gruppo da 10 quindi lavoriamo in questo modo anche questo giro ci ritroveremo a fine giro arrivati a fine giro chiudiamo sulle catenelle con una maglia bassa per poi lavorare una catenella giriamo il nostro lavoro e a questo punto andremo a fare gli altri motivi da 5 stiamo ritornando a questo giro qui quindi noi stiamo facendo sono giri alternati lavoriamo prima questo giro qui che contiene 1,2,3 io in questo caso ne ho 4 e in questo giro qui sono 1,2,3,4 e 5 poi nuovamente sono ritornata 1,2,3,4 questo serve proprio per fare andare il nostro lavoro diritto nell'alzata andiamo avanti filo sull'uncinetto eccolo qui lavoriamo come facciamo sempre quindi una maglia bassa più 2 catenelle filo sull'uncinetto a questo punto vado a lavorare nel primo spazio lavorando le 5 maglie alte ripeto nuovamente questo giro 3,4 e 5 vado nel prossimo spazio e mi lavoro le altre 5 maglie alte arriviamo a fine giro e ci ritroviamo nuovamente insieme completiamo il giro una volta che abbiamo lavorato i 5 motivi nell'ultimo punto lavorando una maglia alta da qui una catenella giriamo il nostro lavoro ripartiamo con una maglia bassa seguita da 2 catenelle e qui a questo punto andiamo a lavorare il motivo da 5 quindi 1 2 3 4 e 5 5 chiudiamo 2 catenelle andiamo nel centro e lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle e nuovamente qui adesso dobbiamo lavorare il motivo da 10 quindi non andiamo a lavorare le 5 lo facciamo soltanto all'inizio e alla fine e a questo punto lavoriamo quelle da 10 quindi andiamo avanti nel lavorare 10 maglie alte in rilievo lasciandole sull'uncinetto 2 3 4 5 6 7 8 9 e per ultima 10 chiudiamo tutte insieme una catenella per chiudere e altre due andiamo avanti in questo modo con una maglia bassa più altre 3 catenelle e si riparte nuovamente con il motivo da 10 da 10 da 10 a questo punto a fine giro facciamo l'ultimo motivo da 5 per poi chiudere il nostro giro una volta che abbiamo completato anche questo giro andremo nuovamente a lavorare i motivi da 5 ovviamente i motivi da 5 adesso che abbiamo i 5 lavorati in rilevo singoli sia da un lato che dall'altro ci toccherà saltare questo spazio quindi il primo spazio non lo saltiamo comunque inizieremo insieme per poi andare a lavorare 5 maglie alte 5 maglie alte 5 maglie alte e così via per poi ripetere nuovamente la parte da 10 solo da 10 cioè vuol dire che non iniziamo con 5 maglie in rilevo davanti singole per poi arrivare alle 10 10 e 10 per poi completare con le 5 ma incomincieremo direttamente con le 10 poi andremo a fare nuovamente le maglie alte quindi le 5 maglie alte negli spazi senza saltare lo spazio in questo caso e poi andremo nuovamente a lavorare le 5 maglie alte singole per poi lavorare le 10 le 10 le 10 e per completare il giro le ultime 5 quindi considerate che i motivi vanno alternati che il lavoro va alternato con i giri in questo modo quindi prima 10 poi 5 5 e centrale 10 e poi tutte e 10 nuovamente 5 5 e centrale 10 e poi nuovamente tutte e 10 iniziamo il prossimo giro insieme facciamo una catenella maglia bassa nel primo punto più 2 catenelle filo sull'uncinetto saltiamo questo spazio vedete io ho i 5 sotto quindi quando ho i 5 sotto salto il primo spazio mentre quando ho i 10 lavoro il primo spazio da 5 quindi salto il primo spazio quando ho i 5 sotto le 5 maglie lavorate insieme sotto entro nel secondo e vado a lavorarmi le 5 maglie alte quindi una, due, tre, quattro e cinque e così via e continuo a lavorare negli spazi sempre lavorando le 5 maglie alte per poi completare il giro lavorare i motivi di rilievo quindi in questo caso questo giro qui vanno lavorati i 10 per poi andare nuovamente a lavorare con con i 5 motivi le maglie alte da 5 e continuare così il nostro lavoro io andrò avanti per quest'altro giro in questo modo e poi vi mostrerò il mio campione completato spero che questo tutorial vi abbia ispirato e vi abbia mostrato come la lavorazione di rilievo possa trasformare completamente un punto io a questo punto vi ringrazio di aver guardato il video fino alla fine se vi è piaciuto come sempre lasciatemi un mi piace condividete il mio canale in modo da farmi crescere sempre di più e noi ci vediamo molto presto in un prossimo tutorial